buongiorno amici e amiche di nova news 24 su mediaset inizia una nuova stagione con nuovi volti bianca berlinguer e mista merlino sono stati in questi giorni i due volti più discussi del nuovo palinzesto mediaset le loro richieste ed esigenze però mettono in ginocchio proprio la rete di piersivio berlusconi area di novità mediaset dove in queste settimane sono arrivate queste due famose giornaliste ovviamente sono molto famose perché hanno già condotto dei programmi su altre reti lo ricordiamo è proprio mirta merlino è stata molto discussa perché ha sostituito proprio lei barbara d'urso sicuramente una delle sostituzioni più incredibili dopo anni passati lì a pomeriggio 5 barbara è stata sostituita berlinguer invece andrà in onda da domani sera con il suo è sempre carta bianca emozione ansia e voglia di fare bene sembra infatti che dietro le quinte mediaset le due donne siano molto scrupolose secondo alcuni hanno già fatto precise richieste secondo quello che ha hanno proprio rivelato gli esperti di gossip nella sede romana di mediaset si lavorerebbe giorno e notte per assecondare ogni esigenza delle due donne agitazione altissima quindi tensioni in quelle del centro palatino a roma per la partenza dei programmi di mirta merlino e bianca berlinguer queste le ultime parole le due signore del giornalismo sono assai esigenti e pignole e proprio alle stressate maestranze tocca lavorare molto sodo alla sede capitolina del biscione si lavora giorno e notte per assecondare ogni richiesta ed esigenza la parola d'ordine sono rigore ed efficienza sarà sicuramente contento pier silvio che le ha volute davvero a gran voce e soprattutto pier silvio ha voluto una rivoluzione dopo tutto quello che è successo quest'inverno intanto amici di nova news 24 diteci cosa ne pensate delle due nuove presentatrici se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su nova news 24 grazie a tutti